Che occorra aumentare il numero di tamponi quotidiani è abbastanza palese, che la macchina organizzativa sanitaria, seppur a rilento, stia provando a accelerare anche, ma la pazienza di molti operai sta purtroppo per scadere, soprattutto con l'approssimarsi della Pasqua. Non saranno festività come le altre perché bisognerà rimanere a casa, ma per tanti con cittadini tornati dalle regioni del nord ed in quarantena da quasi un mese ormai, questi giorni diventano ancora più pesanti nella speranza di potersi ricongiungere con le proprie famiglie, cosa che per molti difficilmente accadrà. Sono in tanti più di 800 tornati da diverse parti d'Italia e del mondo, adesso volontariamente reclusi tra Manfri e Roccazelle. Molti di loro hanno già fatto il tampone, ma oggi i risultati tardano ad arrivare a causa dell'ingolfamento dei laboratori accreditati. Oggi intanto arrivano buone notizie, già nelle prossime ore i tamponi verranno incrementati fino a 200 al giorno, grazie alla sinergia tra il personale sanitario che opera Gela e quello che opera a Niscemi, come conferma l'assessore alla salute Nadia Ignoffo. Stiamo implementando il personale grazie anche all'aiuto della squadra di Niscemi, perché nel territorio di Caltanissetta già Niscemi, Gela, Mazzarino e Butera hanno concluso l'esame del tampone alle persone che erano in quarantena. A Gela abbiamo sicuramente numeri più alti, ragion per cui stiamo supportando il nostro personale grazie all'aiuto del personale degli altri ospedali, in primis l'ospedale nel caso specifico di Niscemi. Già da ieri si sono messi al lavoro per programmare i tamponi, quindi saremo nelle condizioni, così come confermerà la direzione strategica, di poter effettuare 200 tamponi al giorno. Per chi il tampone lo ha già effettuato però c'è purtroppo da pazientare. I risultati arriveranno da oggi e fino a un massimo di tre giorni. Il criterio d'analisi seguito ad oggi è quello della sintomaticità o dei contatti diretti con soggetti già positivi. I risultati arriveranno nel giro di tre, quattro giorni massimo, perché ricordiamo che oltre all'esame di questi tamponi dovranno eseguire, quindi proprio per non incolfare quelli che sono appunto quelli che sono i centri autorizzati all'esame, comunque verranno fatte nel giro di pochi giorni dando priorità ovviamente a chi presenta dei sintomi o comunque a coloro che sono stati vicino ai soggetti che sono risultati positivi. L'assessore torna anche sull'emergenza sociale legata alle misure di contenimento. Sono più di mille le domande arrivate ai servizi sociali per accedere al bonus spesa e il settore dovrebbe essere pronto già nei prossimi giorni a erogare i primi buoni. Molte di queste sono state esitate, molti appunto hanno superato il baglio di verifica da parte degli uffici preposti, ci sono stati molti doppioni delle domande, ci sono stati molti dati che appunto non corrispondevano alla realtà perché ricordano che facciamo delle verifiche incrociate proprio per consentire di ampliare la platata dei beneficiari, quindi già le assistenti sociali sono al lavoro così da poter erogare i buoni nei prossimi giorni.